ci sono i lupi che da osta no è che ogni volta che i vicini vanno via il cane piange piange per un bel po poi poi smette non si abituerà mai e che non è proprio abituato a stare da solo e nell'ultimo anno sta iniziando a stare da solo e quindi fa così per un paio d'ore è un cucciolone da un lato solo che è molto protettivo nei confronti della famiglia e quindi diventa pericoloso quando è in giro infatti lo tengono con doppia mandata di guinzaglio ne cerchiamo sempre di fare il giro largo anche se no devo dirti che a me Emilia adesso inizia a riconoscerci quindi l'abbiamo incrociato ieri sera non c'ha neanche calcolato di striscio solo che il problema è che quando io rientro alle 7 e mezza è proprio l'orario in cui lui è in giro a fare la passeggiata e qua sotto per entrare da me io devo fare un pezzettino di stradina senza lampioni e quindi ho sempre il terrore che quando giro l'angolo al buio lui non mi veda e mi morda anche perché un cane abbastanza grosso da tenere perché è un acchito e finché c'è lui secondo me ha la presa un pochettino più forte quando c'è la mia vicina quando c'è lei che è la metà di me non so quanta forza da per tenerlo quindi delle serie sinceramente inizio ad entrare un pochettino a casa con un po di ansia tanto è vero che provo a fare sempre il giro largo ma cambia poco perché me lo sono incontrato sia passando di qua sia passando di là e sia passando di giù perché ovviamente loro vanno in giro però passeggiate giustamente non è che devono avere un giro preciso però per ora per ora va tutto bene speriamo vada tutto bene perché vi manca solo il morso del cane ragazzi e poi abbiamo fatto tutto ma ad ogni modo buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo bellissimo meravigliosissimo video blog oggi siamo a casa che bello voglio provare questa mora curcuma e cannella almeno che rimane calda fino a otto ore e sappiamo che un litro e due li beviamo entro la mattinata possibilmente l'amore si sente la cannella la curcuma no va bene tu come stai spero davvero che tu stia davvero è veramente è completamente bene perché sono ripetitiva però soprattutto in questo periodo che è un periodo particolare per me mi rendo conto che quando hai la salute hai tutto e tu dirai ok però servono anche i soldi perché senza i soldi non fai niente ed è vero perché senza soldi non puoi permetterti il cibo e non puoi neanche permetterti di avere un tetto sulla testa però se non hai la salute non hai neanche la possibilità di andarti a cercare un lavoro bello o brutto che sia pagato o sottopagato che sia in regola o non in regola che sia discorsi e pensieri in questo periodo che per me continua ad essere un periodo davvero davvero particolare dove ovviamente come sai per esperienza vissuta e per quelle cose che ti ho detto non condivido tutto però ce la si può fare davvero ce la si può fare perché nella vita si può superare e risolvere quasi tutto e quindi e quindi va bene finché riusciamo a essere qua finché riusciamo a raccontare le cose e finché ci sono dei grandissimi attimi di down ma proprio di quelli pesanti però poi si ha la forza e la capacità di riprendersi va davvero tutto bene in questo periodo sto davvero quasi sempre male alle volte mi capita di notte però stringo i denti perché voglio andare a lavorare anche se ci sono dei giorni in cui non vorrei andare a lavorare perché arrivo al lavoro che sono distrutta la mia titolare mi guarda in faccia e mi dice che cosa hai combinato perché torniamo sempre al fatto di ti spiego cosa ti spiego cosa mi sta succedendo ma tanto capisci fino ad un certo punto e non perché tu sia una persona ignorante non sia una persona dal cuore o dall'animo buono ma perché secondo me per quanto ti sforzi di capire non riesce a capire perché non lo puoi capire perché io per prima se una persona viene da me mi dice ho male qua ho male lì ho male lì ho male lì la mia risposta è anche io ho mal di schiena anch'io male qua però non capiscono che questi dolori sono costanti non mi mollano un attimo non c'è un minuto in cui io non abbia male da qualche parte ed il dolore è costante il dolore è continuo e ci sono dei giorni che ti manda letteralmente completamente fuori di testa perché non dormi ma dall'altra parte non voglio neanche fare la signora la mentina però è giusto anche parlarne e lì abbiamo ancora il test da fare che farò fare a mele dieri ho anche letto che in base alle linee se ce n'è tre vuol dire che devi correre immediatamente dal medico quindi ti avvisa proprio su quello che devi fare ok va bene io mi sono messa sotto questo lampione ma non ne ho bisogno perché io spendo di luce propria iniziamo come al solito a sistemare un pochettino casa e poi appunto uscirò a piedi a fare quelle due tre commissioni perché sono senza macchina tra l'altro questa settimana avevo preparato un menù che alla fine non ho seguito perché sabato scorso c'è stata la mia amica pranzo dove abbiamo eravamo partiti che dovevamo fare la polenta poi invece è venuta la mia amica pranzo che lei non piace la polenta quindi ho improvvisato con la lasagna con le zucchine e poi appunto domenica invece abbiamo fatto la pasta avasticciata che in realtà ne è avanzata ancora e sono anche avanzate delle polpette e delle erbette le polpette e le erbette le avevo mangiate di sera perché poi a pranzo ne abbiamo mangiate proprio due o tre nel menù avevo segnato pasta e ceci per i pranzi pasta e ceci e riso con la zucca orecchiette con cime di rapa risotto al curry con pollo e poi avevo messo pasta al sugo mentre appunto la polenta è diventata poi una lasagna e la lasagna è diventata poi la pasta pasticciata perché il venuto di sedito lo faccio partire dal sabato o dal giorno in cui mi dice a farlo ecco non è che lo faccio partire dal lunedì mentre per le sere due minestre per le sere una volta la platessa più le carote quindi martedì e venerdì platessa e carote per col pacco grosso di patessa quindi la farò due volte e anche carote ne ho in abbondanza da fare fuori alcune nel freezer alcune fresche e quindi per due volte ci sarà quello per due volte ci sarà la minestra mentre per una sera ci sarà la bistecca con le erbette perché un altro sacchettino di quello che ti ho fatto vedere nel video di lunedì che per me invece è la domenica e alla fine questa settimana di spesa praticamente non ce n'è bisogno solo poi prendere il latte perché quanto riguarda anche frutta direi che ne abbiamo ancora abbastanza in abbondanza quindi devo proprio solo prendere il latte per me perché l'ho finito anche perché mi manca il mio latte alla zucca ed è questo il motivo per il quale questa mattina sto bevendo la tisana e se c'è una cosa che adoro del menù settimanale e che non lo seguo mai però diciamo che invece un po di cose ci sono ancora tipo qua ci sono due polpette con un pugnetto di erbette che vanno bene come antipasto una polpetta per uno qua c'è la pasta poi abbiamo ancora un po di contorni tipo carote finocchi mentre qua ho messo a scongelare le cime di rapa che volevo fare con le orecchie ciao sono quella che si sta mangiando un po di pasta scaldata ieri così non cucina direttamente sul divano adesso continuerò a guardare una mamma per amica a tornata di luci perché nel frattempo voglio iniziare a mettere tutti i vignometti nella sala nella scala vorrei farli ritrovare il mieve quando rientra questa sera quindi stavo stavo già iniziando la pasta scaldata è ancora più buona no basta appena fatta sono quella delle 5 e 15 delle 17 e 15 che nel frattempo ha fatto cose cose che mi hanno stancato ma non cose fisiche cose di computer telefono e telefonate quelle robe lì che mi struggono gli ogni insomma mi stanco qualsiasi cosa faccio che sia fisica o che non sia fisica io in questo periodo mi stango praticamente a fare tutto ed il fatto è che adesso si alza di qua e nel fatto è che non vedo l'ora di farmi vedere queste cose e di raccontarvi tutto quello che sta succedendo ma ancora non posso dovete darmi ancora un pochettino di tempo e non è perché voglio fare quella che ti deve raccontare chissà cosa ma poi vedrai non posso però a casa invece ho fatto altre cose tipo sono riuscita a tirare fuori gli ignomi per mille e come mi avete scritto si mille adora gli ignomi tanto è vero che io oggi dimenticandomi che non avevo la macchina ho detto oggi esco e ne prendo due gli faccio la sorpresa questi sono gli ignometti di mille e quindi oggi ho detto ma sì mentre sono a casa mentre sbrigo tutte quelle commissioni lì che devo sbrigare passo a prendere altri due ignometti a mille perché appunto domenica ne avevo visti due nel negozio dove siamo andati a farci un giro e tra l'altro erano anche in offerta nel negozio dei cinesi che li stavano caricando ed erano in offerta ma tipo a 5 euro 7 euro quindi li ho già puntati e detto questa mattina prendo vado e invece sono senza macchina come forse ti ho raccontato all'inizio del blog questa mattina perché sono cinque minuti fa ma per me ne sono già passate 12 noi siamo abbiamo una sola macchina cioè la mia perché mi ha portato la sua macchina a fare tutto un check up completo non lo so delle cose alla macchina poi però sono contenta perché sto facendo quelle cose li sono contenta perché la scala l'abbiamo fatta e il pomeriggio si strutturerà davvero con divano e tv tra l'altro non so se si vede alle mie spalle perché non ho cavalletto appoggiato su di piatti tra l'altro le mie spalle su tv 8 se ti interessa sono iniziati i film di natale al pomeriggio che io vedrò solo oggi perché sono a casa quindi approfitterò di questo pomeriggio di relax per guardarmi la tv per cena ci sarà una zuppa di quinoa e ceci con giusto dentro due carotine e magari anche due piselli di quelli suggeriti forse c'è meglio forse io in scattola non lo so devo controllare quindi la cena sarà proprio una cosa molto easy perché la quinoa è già fatta già cucinata poi cos'altro dirti sì prima di salutarti visto che alla fine oggi non farò grandi cose mi rilasso questa sera mangeremo una zuppa quando arriverà a mille ci tenevo solo a dire una cosa e la cosa che voglio dirti è che se io faccio una collaborazione lo dico questa è una collaborazione l'azienda mi ha regalato questa cosa e te lo scrivo anche anche perché non avrei motivo di dirti che una cosa l'ho acquistata quando poi mi è stata regalata perché non avrebbe senso e non vedo per quale motivo non vedi non vorrei dirlo però dal momento che sono una persona che non ha nulla da nascondere fa le cose alla luce del sole perché non c'è in questo caso non ti faccio vedere nessun dato sensibile ci tengo a dimostrarti che tutte le cose che ho preso lo temo le ho acquistate e questi sono tutti i miei acquisti qua ci sono i prezzi come avevo detto l'ultimo video 11 euro qua c'è l'ordine quello di grande da 53 euro vedi c'è il completo lo schiacciapatate la coperta che ti ho detto che ho sbagliato la misura qua c'è la borraccia piuttosto tutte le cose che ti ho fatto vedere queste cose qua te l'ho fatte vedere qua ci sono i due runner che avevo preso con i libri che ti ho fatto vedere la cuffietta quella che io tengo in testa e sono cose acquistate ragazze 11 euro 53 18 15 28 cioè sono tutte cose comprate e pagate da me ci teneva un pochettino a chiedere questa cosa perché è brutto essere messa in discussione quando le cose non sono così quindi poi credo ci sia un pochettino modo in modo magari di dire le cose no ma a parte quello perché non sono una che se la prende perché nel tempo davvero ho imparato a non prendermela e ti assicuro che ho davvero imparato a non prendermela se solo potessi raccontarti tutto quello che è che c'è che succede che sta succedendo cosa che non posso fare su youtube però posso dirti che è sempre collegato a quella storia lì del quale ti ho parlato un paio di mesi fa mi sono persa 15 anni non mi piace essere essere messa in discussione non mi piace neanche non poterti raccontare tutto ma purtroppo ahimè su youtube non si può anche se vuole tanto raccontarti tanto se le cose belle che le cose brutte ma come ti ho già detto ho imparato a mie spese che non va bene che non si può fare e va bene ragazzi questo video credo che durerà un pochettino meno del solito ma fa niente prendiamolo così anche perché oggi tanto non farò niente di che perché adesso mi metterò davvero sul divano e mi alzerò alle 8 sono le 5 e mezza non sono le 8 non mi alzerò un po prima perché non riesco a stare seduto due ore perché mi viene un mal di schiena assurdo poi non riesco neanche ad ambulare bene una volta che mi alzo però non farò grandi cose se non aspettare mille per fare cena e quindi mi sa che concludo questo video qua ho tirato fuori la mia agendina e meno male perché ho cambiato borsa e questa qua è piccolissima quindi l'agenda questa qua non mi ci sta ne ho una più piccola dove non ci è segnato tutto quello che ci è segnato qua e dal momento che sono una persona che vive di agende più che altro per segnarmi i 3500 appuntamenti che ho e poi dividermi tra yoga francese informatica che adesso informatica è finita e il lavoro per non metterci dentro tutte le visite che ho insomma non dimenticata che domani sarà una di quelle super mega giornate impegnative dove devo incastrare tutto e meno male che ho detto fammi andare a guardare l'agenda perché me ne ero totalmente completamente dimenticata domani mattina avremo lo yoga poi abbiamo una visita poi abbiamo un'altra visita nel primo pomeriggio abbiamo l'oncologo e poi dopo l'oncologo si va a lavorare però insomma è tutto un pochettino incastrato e diventa tutto un pochettino più complicato perché abbiamo una sola macchina ma lo so vedremo come organizzarci va bene io per oggi passo e chiudo spero anche oggi con questo semplice normale video casalingo girato prevalentemente tutto a casa senza pulizie perché questa volta le pulizie le abbiamo lasciate andare se no facciamo sempre le stesse cose per oggi abbiamo chiacchierato un po di più spero davvero di averti fatto un pochettino di compagnia spero che questi video continuano a piacerti a farti compagnia se così non fosse come ti ho già detto scrivimelo che io prenderò immediatamente provvedimenti con la persona che fa video saprò io cosa dirle per cercare di sistemare la situazione un abbraccio grandissimo da questo video come al solito sconclusionato un pochettino come tutti gli altri senza un inizio e nel fine e sai perché non c'è mai un inizio nella fine nei miei video semplicemente perché continuano un pochettino come quando non so se tu hai una chat con una tua migliore amica o con una persona che senti sempre sono quelle chat che iniziano e non finiscono mai perché perché non hanno mai una fine è la stessa cosa siamo anche qua con youtube questi video non hanno mai un inizio e una fine perché è un continuo è il continuo di quella che è la mia semplice e reale quotidianità dove io condivido alla fine 20 minuti con te o meglio condivido un'ora alla settimana con te di quella che è tutta la mia quotidianità la vita è meravigliosa sempre cerchiamo di renderla il più meravigliosa possibile e impariamo davvero a gioire delle piccole cose perché perché lo sto facendo e devo dirti che funziona anche se non è sempre semplice va bene credo di aver parlato tantissimo questo video pensavo durasse sui dieci minuti ma secondo me adesso ho parlato per più di un quarto d'ora credo che farò assolutissimamente dettagli io mi auguro di cuore di ritrovarti qua venerdì sei piacere stessa casa stesso canale stesso io stessa tu e nel frattempo sempre solo tante cose belle tanto amore e tanta salute a venerdì e grazie per esserci sempre